Arrestati tre giovani per furto negli appartamenti, come siete arrivati all'individuazione? Sono soddisfatto dell'attività che la squadra di polizia e giudiziaria del commissariato, sotto la responsabilità del dottore Damarico e con l'ordinamento della procura di gerano alla persona del dottore Asaro, nell'individuazione di questo gruppo criminale, si tratta di tre soggetti che hanno avuto numerosi precedenti penali, il Morello Nicolò è stato anche sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, e appunto soggetti avvezzi alla commissione di furti in serie, in maniera seriale, che hanno turbato molto la sicurezza e l'ordine pubblico all'interno del comprensorio di Gela, considerando che andavano anche fuori paese a compiere questa attività criminale, dalla quale ci risulta documentato hanno sottratto beni e da avere per svariate migliaia di euro alle povere vittime, che ahimè venivano presi di mira, si tratta di soggetti abituati, avvezionano mai da tanto tempo, a svolgere e a compiere soprattutto attività illecite, pertanto sarebbe una scusante molto genere che dire che è dovuto a uno stato di università, perché ci sono tantissime persone per bene che ahimè sono in difficoltà, ma non si sognano assolutamente di andare a turbare la tranquillità familiare per andare a depretare con i cosiddetti reati predatori le abitazioni private per trarne sostentamento. L'indagine nasce nel marzo del 2017 a seguito di un attentato commesso nella via Matteotti ai danni di un soggetto che abitava lì. In quell'occasione fu vista fuggire una Mercedes dall'attività di indagine che scaturì nell'immediatezza. Siamo arrivati al gennaio dello scorso anno del 2018 ad arrestare Rinsivillo Giovanni come autore di quell'attentato e attraverso il monitoraggio di quell'auto che fu vista fuggire e di altre attività tecniche siamo riusciti a risalire a questo gruppo dedito ai furti in appartamento. In particolar modo abbiamo arrestato tre soggetti su cui abbiamo raccolto i maggiori indizi di colpevolezza ma abbiamo riferito altri soggetti complici per altri furti commessi su cui abbiamo raccolto comunque meno elementi. Stanotte abbiamo eseguito questa ordinanza, diciamo che era un gruppo ben assortito, un gruppo specializzato, un gruppo che studiava bene gli obiettivi, verificava l'assenza della ricchezza, diciamo il benestare di quelle famiglie e studiava l'assenza dal domicilio per compiere i reati.